Allora, oggi facciamo quello che ci eravamo proposto di fare, cioè di risolvere insieme questo esercizio che era l'esercizio 3 del laboratorio della scorsa settimana. Un giochino, famoso gioco dell'implicato in cui bisogna indovinare una parola segreta, che ha un gioco a due giocatori, per ora lo pensiamo così, in cui uno inserisce una parola e un altro lo deve indovinare. Se volete possiamo dare una veloce lettura al testo, scrivere un programma per realizzare il gioco dell'implicato salto alle parti non rilevanti, la parola segreta dovrà essere inserita manualmente dall'avversario all'avvio di ogni nuova partita all'interno di una text field, il cui contenuto sarà cancellato non appena premuto il tasto Start, perché ovviamente la parola non può rimanere visualizzata, altrimenti il gioco diventa un po' troppo facile. La pressione del tasto denota l'inizio della fase in cui il giocatore dovrà indovinare la parola segreta immessa. All'inizio di questa fase, l'inizio della text field indicata alla parola, sarà mostrata la parola segreta con tutti i caratteri sostituiti con degli underscore. Una frase complicata per dire, qua sotto nel campo parola, compaiono dei trattini al posto delle lettere vere della parola, che dovranno essere scoperte via via. La logica del gioco la conosciamo bene tutti. A man mano che l'utente indovina le lettere presenti nella parola segreta, i caratteri corrispondenti saranno svelati. In caso di errori, invece, sarà incrementata sia la progress bar che il contattore numerico mostrato a fianco, che misurano gli errori, che sono questi due, la sbarra di progresso e il campo di testo. La partita finisce se l'utente indovina la parola nascosta oppure se raggiunge il numero massimo di errori. In entrambi i casi dovrebbe essere mostrata la soluzione in un'apposita casa di testo, che è questa qua sotto. Il numero di errori massimo, non l'abbiamo detto prima, è uguale a 8. Questa è la regola del gioco e il tipo di esercizio che vogliamo svolgere. Allora, come sempre, per non perdere troppo tempo a creare la parte grafica, io mi sono portato avanti e vi dico dove potete scaricare l'fxml, che ho già preparato, così non dovete, diciamo, di corsa andare a creare il vostro. Allora, io quello che sto facendo è di, man mano che lavoro, diciamo, sulle esercizioni, le salvo, le condivido su un server, un sito, non so se l'avete già sentito nominare, si chiama GitHub. GitHub, Git è una delle varie, ci sono varie tecnologie per poter fare la gestione condivisa e distribuita dei codici sorgenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno lavora a un programma sul suo computer, il sorgente che scrive è sul suo computer e basta. Qualunque cosa succeda a quel computer e a quei file, impatta ovviamente il lavoro. Nel senso che se io sbaglio, cancello tre file e li ho persi. Quindi, chi lavora sul serio, non può pensare di avere una copia sola di sorgenti sul proprio computer e basta, oppure magari ricordarsi alla fine della giornata di salvarli. Così come magari sviluppando delle funzioni, stai andando avanti, ti accorgi che devi tornare indietro, perché hai modificato la funzionalità, non va più bene, devi tornare indietro a vedere com'era la settimana scorsa, nel mese scorso, come avevo fatto. Questa è la prima esigenza, avere una tracciabilità storica, dell'evoluzione di un manofatto software. Questa ha maggior ragione se stiamo lavorando non da soli, ma con altre persone. Quindi avere più persone che stiano lavorando collaborativamente allo stesso progetto. Uno fa un file, l'altro ne fa un altro, implementa una funzione, aggiungi un'altra, eccetera. Quindi come fanno più persone a condividere il testi file? Non so se voi avete mai provato a scrivere una tesina insieme a qualcun altro, si diventa imbecilli a furia di mandarsi avanti e indietro un file word, o cose di questo genere. Perché qua l'ultima versione ho aggiunto questo, ho toccato quell'altro, ma l'avevo corretto, tu me l'hai sovrascritto perché lavoravi sulla versione vecchia, e così via. Immaginate questo problema moltiplicato per mille, quando anziché un file word o mille file sorgenti diversi, di classi, eccetera, che poi sono interdipendenti l'uno dall'altro. Allora, sono nati degli strumenti, dai più semplici ai più potenti, proprio per gestire questo, la gestione di un repository condiviso di sorgenti per vari progetti. Uno di questi, c'è una varia standard per farlo, Subversion è uno dei più famosi, Git è un altro che attualmente sta andando molto per la maggiore. Per cui, sia a scopo di backup mio personale, sia a scopo di condivisione con voi, e i progetti che via via sviluppo, li salvo qua sopra. In cui, tra l'altro, si possono vedere, appunto, le varie versioni, in questo caso io ho creato un progetto che si chiama così, il progetto il quale però ha più versioni. Qui si vede la storia delle varie modifiche che ho fatto, in questo caso ci ho lavorato da solo, ma se qualcun altro avesse l'autorizzazione di accedere a questo repository, potrebbe scaricare il progetto, lavorarci in parallelo e condividere le modifiche. Non ve la faccio lungo, è solo per citarvi che nel campo di sviluppo software questo è uno strumento essenziale, ma in realtà lo sarebbe anche io, lo uso anche per scrivere documenti in un sistema di questo genere. Ti tiene traccia delle versioni, in ogni versione puoi andare a vedere cosa hai cambiato, chi ha cambiato che cosa, e comunque hai sempre tutto salvato da un server, se a me io comincio a lavorare, per dire in ufficio, e finisco di lavorarci la sera a casa, semplicemente i file sono sincronizzati col server in cloud, la centrale, e quindi non perdo mai nulla. Venendo a noi, a voi all'esercizio, se voi andate a questo indirizzo, che adesso magari scriviamo più in grande, github.com slash tegne-progre trattino 2015 visto che i progetti che ho salvato sono pubblici potete vedere ciò che ho fatto quindi vedrete una pagina simile a quella che ho aperto un attimo fa ovviamente è solamente in modalità ridoni perché non potete modificare quindi vi mancheranno molti dei comandi se andate a questo indirizzo è diciamo così un insieme di progetti che sono stati che sto creando per il corso di quest'anno se entrate dentro quello dell'impiccato potete entrare vedere i vari sorgenti non andate a guardare la soluzione perché io l'ho già fatto l'ho fatto ieri l'ho risolto ma adesso lo dobbiamo costruire insieme volendo quello che potete fare la clone per essere anche voi github per poterlo leggere e modificare ma se no c'è questa funzione download zip per scaricarvi il progetto completo importarlo nei clips e provarlo quindi per tutti i progetti di questo genere potete entrare in un progetto far scaricarvelo come zip e poi lavorarci ma noi adesso non vogliamo scaricare tutto il progetto semplicemente vogliamo andare a trovare il file fxml per evitare di scrivercelo da soli e quindi navigo all'interno dei file e c'è questo file impiccato .fxml che qua viene visualizzato questo sistema github non è pensato per scaricare i singoli file è pensato per vedere anche le modifiche online tracciare le varie versioni eccetera però se arrivate a questo file o in generale a qualunque file potete sempre cliccare sulla visualizzazione grezza raw e ci dà il file diciamo così nudo da tutta la formattazione che possiamo poi salvare da qualche parte e quindi in questo caso ci serve per non partire da zero col progetto quindi facciamo un passo indietro passo indietro partiamo la tecnica di programmazione quella pagina l'indirizzo che vi ho fatto vedere prima github.com slash tecnica trattino progr trattino 2015 e siamo qua entriamo in questo progetto non guardiamo altro per il momento spostiamoci su eclipse e creiamo un progetto nuovo progetto nuovo di tipo progetto java fx chiamiamo gioco impiccato ad esempio qui rispondiamo alle domande di rito particolare polito.tdp.impiccato linguaggio fxml borderpermi va bene impiccato impiccato quello chiamiamo impiccato controller finish e mi crea il solito progetto vuoto io adesso all'interno di questo progetto vuoto voglio sostituire questo file fxml con quello che prendiamo dal progetto su github ok allora torniamo qua entriamo dentro il progetto entriamo dentro il package prendiamo questo file lo apriamo in modalità diretta grezza e poi lo salvo come vedete che lo salva come impiccato punto fxml me lo vado a prendere dovrebbe essere qua salvare ovviamente dentro workspace di eclipse esatto al posto di questo quindi sono andato in modalità raw e poi ho fatto tasto destro salva con nome e lo sto salvando direttamente dentro il progetto di eclipse potrei salvarlo da qualche altra parte poi copiarlo fate come preferite ovviamente esiste lo voglio rimpiazzare sì e quindi se torno al mio eclipse aprendo questo file anziché trovarmelo vuoto me lo trovo già con delle cose dentro quindi ho fatto tutto un giro per andare a scaricare questo file e partire da un progetto non più vuoto ma contenente già un primo abbozzo avanzato della interfaccia così poi ci concentriamo sul resto file che ovviamente possiamo aprire con il nostro caros in builder e vedere come è strutturato quindi dovreste riuscire a valle di questi passaggi ad aprirlo e vedervelo ci siamo ci sono problemi siamo fortunati perché fino a stamattina da tre giorni la wifi del poli non funzionava oggi ce l'hanno aggiustata per l'occasione non funziona a me sì e non lo dico troppo forte perché va beh a qualcuno funziona a qualcuno sì quindi ok a chi funziona se siamo arrivati a questo punto se non posso vendere su chiavetta copia del file diamo solo un'occhiata rapida agli elementi che ho definito per dare un'occhiata rapida conviene andare nella parte controller qua sotto che ci fa il riassunto degli elementi a cui ho dato un nome qui chiaramente è un lavoro di mezz'ora di andare a disegnare l'interfaccia fare le hbox e tutte queste varie menate ma non interessa essenzialmente quali elementi ho inserito allora ho inserito un primo elemento che quasi chiama ho chiamato txt segreto che è questa casella di testo nella quale l'avversario inserirà la parola segreta poi un bottone start che è questo che ho chiamato button start e al quale ho associato un evento un gestore dell'evento in action che ho chiamato do start scarsa fantasia come sempre ma coerenza aiuta poi abbiamo questo campo che ho chiamato combo lettera in cui ho inserito l'elemento combo box cioè al menu tendina ho chiamato combo lettera e basta per il momento dovremo poi popolarlo con le lettere dalla A alla Z perché qui a livello di sim builder non c'è nessun modo per dire qual è il contenuto di questa tendina lo vedete grigio perché l'ho messo in modalità disabilitata in partenza perché quando il programma parte ovviamente non puoi ancora scegliere la lettera perché la partita non è ancora iniziata in quanto l'avversario non ha ancora inserito la parola segreta lo stesso si dice dica per il bottone try button try qua sotto a cui ovviamente associato un altro gestore dell'evento do try per dire immetti un tentativo un nuovo tentativo e questi sono gli elementi interattivi ho due bottoni una casa di testo e una combo box anche questo bottone ovviamente è inizialmente disabilitato per lo stesso motivo di prima poi ho gli elementi di output in cui il programma mi mostra il risultato vabbè a parte la casa di testo in cui mettere il numero di errori che ho chiamato txt errori per giocare abbiamo messo anche un elemento nuovo che si chiama progress bar che è una sbarra che si riempie gradualmente da tutta vuota a tutta piena con una percentuale che va da 0 a 1 l'ho chiamata pb errori pb sta per progress bar che conta il numero di errori e poi ho due campi di testo che si chiamano parola e soluzione in particolare txt parola e txt soluzione parola è quello che deve mostrare la parola con i trattini man mano che la indovino e soluzione devo mostrare la mia soluzione ma solamente quando avrò finito la partita tutte queste caselle sono ovviamente impostate come non modificabili quindi ho tolto la spunta all'editable perché l'utente deve solamente vederli ma non poterci scrivere dentro 1, 2 e 3 sono non modificabili mentre invece questa ovviamente lo è quindi questi sono gli elementi principali di questa interfaccia sono questa manciata di campi e ovviamente farà riferimento a una classe controller che ci dobbiamo creare un ultimo elemento prima di lasciare lo sim builder io come ho strutturato questa interfaccia ho fatto una vbox unica verticale con tante hbox una per ogni riga non è un modo migliore ma è un modo perché non è un modo migliore perché in realtà come vedete sono tutti disallineati i campi non c'è un buon elemento verticale ma è la soluzione più veloce questa soluzione mi permette anche di fare un giochino noi dovremo a un certo punto nascondere la parola segreta allora un modo molto veloce per nascondere un pezzo di interfaccia è quello di giocare sull'attributo qui sono su questa hbox quindi su questa riga c'è un attributo visibile che è true se io lo mettessi falso scompare la riga cioè c'è gli elementi ci sono i nodi ci sono ancora semplicemente non sono visibili quindi ho questo giochino qua occupa uno spazio quindi il fatto di cancellarli non va a spostare il layout della finestra ma lo rende non più visibile quindi è un'azione che si può è diverso dall'enable-disable il disable lo rende visibile ce lo vedo ancora ma non lo posso toccare non ci posso fare nulla invece non è visibile se invece scompare proprio dalla scena in questo caso voglio proprio che la parola non si veda più e quindi potrei giocare su quello e tra l'altro se notate io gioco con un attributo visibile non della label del textarea del button ma direttamente dell'hbox del nodo contenitore quindi rendo non visibile questo nodo contenitore e di conseguenza tutti i nodi contenuti anche essi non saranno più visibili è l'intero contenitore che faccio sparire è un gioco di prestigio e quindi è un modo veloce di abilitare o di abilitare parte dell'interfaccia ok preso familiarità con questo fxml passiamo al codice allora la prima cosa da fare andiamo a farci il controllore mettiamolo full perché magari dobbiamo inizializzare qualcosa la differenza tra full e non full essenzialmente è che mi mette il metodo initialize in fondo dimmi si può darsi bisogna andare a vedere se l'elemento grid row ha un attributo visible o no possiamo andare a vederlo deve vedere se selezionando una riga allora fatemi fare due passaggi perché non voglio allora dicevo poi rispondo meglio apriamo un grid pane lo guardiamo insieme allora sicuramente avremo bisogno del metodo di initialize per popolare la tendina quindi prima che l'utente initialize ricordiamo che c'è un metodo che viene creato subito dopo che il costruttore è stato costruito e subito dopo che la scena è stata costruita però quando costruisco la scena la combo box mi viene fuori vuota non ci sono le lettere dell'alfabeto dentro come invece vorrei avere dove posso creare queste lettere è nel metodo initialize che viene chiamato prima che l'utente possa interagire con la scena quindi il full mi rende mi crea anche questo metodo all'interno del controller quindi posso fare copia e tornare di là e incollo la classe controller poi ci saranno un po' di errori che mettiamo a posto vedete che questa classe controller ha tutti tutte le variabili che abbiamo visto prima i metodi do start e do try e il metodo initialize do try lo mette due volte ma poi vi dico perché anzi per rispondere alla domanda sua che diceva ma se io metto una grid pane c'è modo di nascondere o far vedere una determinata riga beh andiamo a vedere se l'oggetto che ci interessa ha l'attributo che ci serve allora per non fare troppo casino fatemelo fare un file nuovo tanto uguale grid pane inseriamo il grid pane qua che viene un po' brutto più che altro grosso perché avrà dei vincoli di layout un po' esagerati e vediamo vedete che allora nella grid pane io posso avere l'elemento grid pane che è l'intera griglia a cui posso poi aggiungere righe aggiungere colonne cancellare righe cancellare colonne poi questo oggetto in realtà è composto da altri oggetti che sono le colonne vedete che se seleziono una colonna mi seleziono un oggetto che si chiama column constraints è fatto un oggetto che vincola la larghezza di cui posso impostare la proprietà per vincolare la larghezza delle colonne dire ma questo deve essere sempre il 10% dell'altra e così via quindi da dei suggerimenti al layout dinamico se invece seleziono una riga mi da un oggetto row constraints che però non vedo che abbia delle proprietà se seleziono una cella no non la posso selezionare le celle di per sé non sono selezionabili perché sono semplicemente dei contenitori trasparenti ciò che è selezionabile eventualmente sono gli elementi che metto all'interno della cella per cui se io avessi anche solo una label la inserisco ad esempio qua in questa cella il fatto che questa label che è una normalissima label sia stata messa all'interno di un grid pane anziché in una composizione qualunque fa sì che dove è andata qua tra le proprietà della label si siano aggiunti e vedete che si è aggiunto un riquadro nuovo grid pane constraints attributi che normalmente la label non ha ma per il fatto che è dentro il grid pane ha acquisito questi attributi che dicono essenzialmente in che riga in che colonna si mette se voglio mettere una colonna di destra questo column index lo faccio diventare uno e lei si sposta se voglio mettere una riga sotto anziché la riga uno che è la seconda metto riga due che è la terza e lei si sposta quindi la posizione di un elemento all'interno sono tutti i figli della griglia la posizione all'interno della griglia è una proprietà del figlio stesso sono delle proprietà aggiuntive dei figli stessi però al momento direi che con quello che ci fornisce la visibilità ce l'ho a livello di etichetta del singolo nodo ma non riesco a darla a livello di riga quindi quel trucchetto non riesco a farlo così facilmente lo potremo fare più avanti eventualmente usando i fogli di stile dando la stessa classe tutti gli elementi della stessa riga e cambiando la proprietà dei fogli di stile più avanti ma non direttamente con gli elementi dell'interfaccia ok potrei sempre avere due grid pane una sopra l'altra e far scomparire l'intera grid pane da sopra e giocare con i vincoli di colonna in modo che quando allargo si allarghi nello stesso modo quindi questo è il trucco visuale per non lasciarvi con la mara in bocca ok fatemi ancora fare una modifica rapidissima a questo perché ci voglio arrivare dopo ok va bene veniamo a noi abbiamo il nostro controller come solito ci sono un paio di errorini da correggere perché il sim builder nella versione attuale è un po' imperfetto ma noi sappiamo correggerlo ecco come sempre quando abbiamo una combo box e poi lo vedremo capitare anche per le tabelle eccetera quando abbiamo degli elementi che possono contenere oggetti di vari tipi allora la domanda che ci dobbiamo fare è la nostra combo box che cosa contiene questo punto interrogativo significa che combo box è un tipo generico che poi si è parametrizzato col nome di una classe classe che è relativa al tipo di oggetto che è rappresentato dalle righe della tabella in questo caso della combo box che è sempre la tabella quando si apre da un menu a discesa in questo caso dobbiamo solamente mostrare la lettera dell'alfabeto quindi ci può stare bene uno string se ci dimentichiamo di definire il tipo della combo box ovviamente avremo una serie di errori più avanti perché lui lo vede come object anziché come string quindi tutte le volte che si chiama di usarlo si arrabbia come object generico ma voi dite ma quando apro una tendina comunque ci sono delle scritte sarà sempre string sì e no cioè in qualunque menu a tendina quindi come box quando viene aperta l'utente vede del testo delle stringhe ma può darsi che gli oggetti corrispondenti siano dei bing di altro tipo quindi io posso mettere dentro la tendina direttamente i riferimenti ad oggetti oggetti complessi oggetto esame oggetto persona oggetto e quindi la tendina mi permette in qualche modo di selezionare direttamente un oggetto nel momento in cui visualizza ovviamente visualizzerà una rappresentazione testuale di quell'oggetto lì chiamando il metodo to string dell'oggetto stesso questo lo faremo più avanti spesso quando carichiamo degli oggetti per permettere di scegliere do alla tendina direttamente riferimento agli oggetti e do all'oggetto la capacità di essere visualizzato sotto forma di stringa basta fare l'override del metodo to string dell'oggetto stesso e così non dobbiamo porci poi il problema dell'utente ha selezionato la scritta pippo qual è l'oggetto che corrisponde a pippo perché la tendina mi dà già direttamente l'oggetto stesso per ora siamo ancora all'inizio e quindi lavoriamo direttamente col testo perché non abbiamo altro non ci serve altro tutto questo deve implementare poi due metodi che ho chiamato to start to try occhio croce allora prima di andare ad agganciare i metodi io mi chiedo il gioco implementiamo la logica di gioco la logica di gioco la implemento in un modo in un luogo completamente esterno rispetto a controller il fatto di la parola indovinano lettera o indovinato o non indovinato o fatto di errori eccetera lo voglio estrarre completamente in quello che abbiamo imparato a chiamare modello cioè una classe che gestisca i dati in questo caso i dati sono la parola segreta i tentativi fatti gli errori compiuti e il fatto che abbia vinto o no una cosa del genere noi cerchiamo sempre di immaginare così quando mi costruisco il modello quindi capisco la ragione sulla gestione dei dati immaginiamo di volerlo fare magari anche con un'applicazione testuale a console non con l'interfaccia grafica allora metto in una classe a parte che non usa l'interfaccia grafica per nulla tutti i metodi tutti gli oggetti tutte le informazioni che servono che possono permettere di giocare una partita intera se ci fosse un main che lo richiamo opportunamente quindi mettiamo un attimo in pensione un stand by questo controller e andiamo a costruirci come sempre io per per non avere tutto insieme mi costruisco un package che chiamo model ovviamente non è obbligatorio ma e dentro questo package costruisco una classe che posso chiamare impiccato model così si capisce che cos'è e dentro questa classe modello ho creato una classe impiccato model in un package punto model dentro il mio progetto e qua dentro ci sta il gioco quindi questa qua contiene i dati contiene i dati e la logica per giocare ad una partita all'impiccato al gioco dell'impiccato ma fatemi abbreviare ok allora come sempre chiediamoci quali sono le variabili di cui il gioco ha bisogno vabbè sicuramente avrò bisogno della parola segreta quindi una variabile chiamano segreto poi deve tenere traccia del numero di errori quindi private int errori poi può esserci il numero massimo di errori e questa la possiamo definirla come variabile final cioè non modificabile la chiamiamo max errori diciamo che vale 8 max errori è una costante quindi in realtà le costanti non esistono in java esistono le variabili che non possiamo più modificare quindi dichiaro quella variabile final il compilatore si arrabbierà se cercherò di modificarne il valore e per ricordarmi a livello di codice che quella è una costante la scrivo tutto in maiuscolo anziché scrivere in minuscolo quindi 8 era il numerino che il testo d'esercizio diceva come il numero massimo di errori non l'ho inventato adesso era nel testo poi di che cosa ha bisogno il gioco beh avrà bisogno di sapere quali lettere ho già provato e quali ho già indovinato in un certo senso quindi cosa ho già indovinato nel senso di potremmo pensare alla parola che inizia con tutti i trattini e poi questi trattini poco per volta si trasformano in lettere io quando ho pensato a questo ieri l'ho chiamata maschera la maschera è la stringa che contiene la parte di parola già indovinata cioè ad esempio parte con tutti i trattini e poi diventa ad esempio se questi qua quanti trattini ho messo 1,2,3,4,5,6 diciamo che sia scuola la parola e ho inventato la c trattino c uo l a cioè la stringa che di fatto sia quella che voglio visualizzare la combinazione di trattini per le lettere che non ho ancora indovinato e la lettera effettiva dove invece ho già indovinato quando questa cosa qua diventa senza trattini del tutto ho vinto siete presente che il numero di tentativi o meglio il numero di tentativi positivi cioè di lettere indovinate per vincere la partita non è uguale al numero di lettere c'è qui una parola di 6 lettere ma per indovinare tutte magari ce la faccio con meno di 6 tentativi perché magari ci sono delle doppie ci fossero delle doppie una c doppia scrivo c e indovino in un colpo solo due posizioni quindi non mi basta sapere quante lettere ho indovinato ma devo sapere anche quali o meglio ancora quali restano da indovinare e poi una cosa utile da avere è quali sono i tentativi già fatti perché dire una lettera che c'è nella parola ma che ho già detto prima è comunque un errore quindi devo sapere quali sono le lettere che ho già detto prima quindi quali lettere tentativi sono già stati fatti e come lo rappresento questo è un insieme di lettere non possiamo usare la classe set che abbiamo visto insieme la settimana scorsa un set di cosa di string tentativi set è salagiano punto utile punto set dove mi interessa solamente se quella lettera c'è o non c'è è un insieme di lettere disordinato di cui mi interessa solo l'appartenenza o meno questa lettera con tentativo c'è o non c'è l'insieme diciamo che le prime tre di queste variabili sono ovvie nel senso che ci vengono in mente subito le altre magari non ci vengono in mente subito ci verranno o ci sarebbero venute in mente scrivendo poi i metodi per dire adesso questa informazione dove la metto e ci sarebbe venuta voglia poi di metterlo quindi io avendolo purtroppo già fatto ci ho già pensato abbastanza da poter vedere la necessità di queste variabili dopodiché questa cosa qua deve incapsulare le mosse possibili del gioco sicuramente dovrò definire un costruttore public impiccato model e il costruttore cosa deve fare diciamo che porta la classe in uno stato base di partenza sano senza il null pointer eccetera eccetera in particolare qui ho una collection e facciamo in modo che mi crei una collection vuota un set vuoto quindi il lavoro principale che deve fare questo signore tentativi uguale new new di cosa allora devo creare una nuova istanza di un set set è un'interfaccia ovviamente vedete che java.util.set a fianco alla i vuol dire quella è un'interfaccia quali sono le implementazioni possibili quali sono le implementazioni possibili vediamo che c'è un sorted set non, un sorted set è una sola volta un'interfaccia le due implementazioni dirette sono hash set e tree set ma visto che noi non abbiamo ancora parlato di alberi ma invece abbiamo parlato di hash possiamo usare tranquillamente un hash set che abbiamo già visto in realtà anche il tree set lo potremmo usare perché il vantaggio delle interfacce è che il tree set dentro è una cosa completamente diversa rispetto a un hash set ma si usa nello stesso identico modo va bene hash set di string sempre hash set ovviamente deve essere importato quindi creiamo questo insieme vuoto e poi possiamo impostare dei valori segreto uguale stringa vuota perché al momento è un null pointer quindi meritiamo il null pointer perché abbiamo meno eccezioni da gestire errori uguale a zero in realtà errori è già uguale a zero quando lo dichiaro perché in java ogni variabile viene inizializzata automaticamente ma possiamo anche essere espliciti poi questo è semplicemente il costruttore poi cosa fa questo gioco che mosse posso fare in questo gioco due iniziare una partita nuova o fare un tentativo in una partita esistente giusto allora iniziare iniziare una partita nuova significa avere no farsi passare la parola da indovinare cioè iniziare una partita nuova significa decidere qual è la parola che dovrà essere indovinata quindi definiamo un metodo start o nuova partita forse che riceve come parametro una stringa che è segreto da indovinare giusto corrisponde a quando l'utente schiacciare il bottone nuova partita start e quello devo fare qua dovrò innanzitutto memorizzarmi il segreto quindi dis punto segreto uguale segreto poi rimetto a zero gli errori ovviamente perché sto iniziando una partita nuova i tentativi qui qui magari è la prima partita la seconda la terza la quinta partita devo ripulire ciò che avevo dalle partite precedenti quindi quindi insieme ai tentativi lo vado a svuotare clear che è il metodo che funziona su tutte le collection e anziché creare una collection nuova vuota a zero quella che ho pulisco quella che ho e poi devo ancora inizializzare maschera inizializzarla mettendo tanti trattini quanti sono le lettere della parola segreta quindi posso dire che la maschera uguale stringa vuota se già non lo fosse e poi per tutti i caratteri int i uguale zero i minore della lunghezza della parola segreta i più più maschera uguale maschera più trattino in modo per costruire una stringa lunga come la parola segreta ma costituita esclusivamente da trattini ok una cosa che magari ci conviene fare perché non vogliamo complicare troppo la partita è decidere se la parola da indovinare sarà in maiuscolo o in minuscolo nel caso in cui il segreto lo scrivete in maiuscolo e l'utente cerca di indovinare usando le lettere minuscole sarebbe non riuscirebbe mai a indovinare allora decidiamo che mettiamo tutto in maiuscolo sia la parola segreta che ovviamente le lettere da indovinare se anche l'utente ha inserito in minuscolo in realtà internamente lavoriamo solo con le lettere maiuscole evitiamo di impazzire ogni volta controllare mai una A minuscola e una A maiuscola internamente sarà tutto maiuscolo sempre e qui ho inizializzato una partita nuova di queste variabili quali devono essere visibili all'esterno cioè se devo mettere i metodi get set di questa classe e questo non è un bing non è un oggetto stupido che serve semplicemente per ricordarsi dei dati è una classe che ha una sua logica quindi certe cose le posso fare certe altre no non sarebbe ad esempio bello esporre all'esterno la classe cioè il set tentativi perché il programma che usa questa classe non deve modificare il numero di tentativi non deve neanche sapere quali i tentativi sono già stati fatti se no tra virgolette potrebbe barare così come anche la classe segreto la parola segreta non dovrebbe essere rivelata da questa classe non devo dirlo quindi non mi serve un get segreto mi servirà sicuramente un get errori mi servirà un get maschera perché questo deve essere visualizzato e quindi possiamo magari inserire qua sotto decidere non a a tappeto get set di tutto ma ad esempio la variabile errori voglio offrire un set errori no perché se no dall'esterno qualcuno mi lo resetta me lo mette un valore che non dovrebbe esserci solamente il get la maschera anche il massimo errore lo posso dare visibile vedete che c'è solo il get già perché l'avevo dichiarato final quindi non sarebbe comunque possibile modificarlo la parola segreta è il numero di tentativi e l'insieme dei tentativi infatti non li espongo all'esterno li tengo privati per me non hanno bisogno di essere noti allora vediamo se funziona questa cosa proviamo a fare un primo test allora senza andare ancora a ganciare la controller prendiamo l'abitudine soprattutto nelle classi complesse di dotare ogni classe del suo main senza fare junit che necessariamente ci porta magari via del tempo ma un metodo main in ciascuna classe che serva per testare i metodi principali di questa classe public static void main string args e questo metodo main quindi diciamo così proviamo a creare un'istanza di me stesso e a farci fare qualche cosa ad esempio l'unica cosa che posso fare finora è try this no scusate model punto nuova partita la parola segreta da indovinare sarà ciao e vedo se il model mi ha correttamente calcolato la maschera ad esempio quindi system punto out punto print line model punto get maschera e mi aspetto di vedere quattro trattini e quindi infatti sto testando questo codice quindi posso fare un run ops perdono eh uno due tre quattro ok e soprattutto con le classi complesse abituiamoci ad adottare ogni class di un main e man mano che sviluppiamo metodi all'interno di questa classe aggiungiamo delle chiamate a questi metodi dalla classe main per verificare che tutto sia a posto ovviamente questo main non verrà chiamato dall'interfaccia grafica semplicemente sarà un metodo lì che rimane morto ma quando lo vogliamo lo richiamiamo questo è il grosso vantaggio anche di avere un modello che non ha bisogno di grafica funziona da solo non ha bisogno di nulla per girare ok quindi sappiamo o pensiamo di sapere di essere capaci a creare una partita nuova adesso dobbiamo gestire il tentativo tentativo che riceverà una una stringa chiamiamola tent tenta questo qui potremmo far restituire un boolean che mi dice se il tentativo è andato a buon fine oppure no quindi come prima cosa abbiamo detto che vogliamo lavorare sempre in maiuscolo quindi lo mettiamo in maiuscolo poi possono succedere tre cose tenta supponiamo che sia una lettera deve essere una lettera sola è una stringa di un carattere solo questo carattere poi potremmo controllarlo come gestione degli errori questo carattere può essere già stato detto e allora errore non è ancora stato detto e non c'è nella parola segreta e allora errore non è stato detto ma c'è nella parola segreta e allora l'ho indovinata e quindi dovrà aggiornare la maschera o tre casi allora primo caso tentativo già fatto in precedenza come faccio a saperlo beh io ho detto che ho un set che si ricorda tutti i tentativi già fatti vado semplicemente a vedere se questo elemento tenta appartiene a quell'insieme quindi ho i tentativi tentativi contiene tenta se si ho sbagliato quindi incremento gli errori e ritorno falso questo era un boolean che mi ha detto mi dice se il tentativo è andato a buon fine scriviamolo perché se no ce lo dimentichiamo troppo in fretta compie un nuovo tentativo permette cerca verifica se il tentativo fatto è corretto cioè non è fatto in precedenza ed appartiene alla parola da indovinare parametro parametro tenta è la lettera che sto tentando di indovinare e il valore di ritorno è falso se è errore true se è tentativo corretto in questo commento ho fatto la documentazione di questa funzione e lui si arrabbia continua a dire rosso perché ci sono dei casi in cui questa funzione che deve ritornare un booleano non ritorna nulla quindi finché non avremmo messo tutti i ritorni in tutti i casi possibili sarà sempre arrabbiato dopodiché primo caso primo errore tentativo già fatto secondo errore oppure verifichiamo se a questo punto la lettera c'è o non c'è verifico se la lettera esiste è presente a questo punto sono sicuro che la lettera non l'avevo già chiesta prima però devo ricordarmi che l'ho chiesta adesso allora quello che dovrei fare è tentativo tentativi punto add ti tenta adesso non c'era l'insieme ok adesso lo aggiungo quindi se per caso ti riprovi subito dopo sarà un errore indipendentemente dal fatto che la lettera ci sia o non ci sia nella parola però se l'ho già tentata prima invece se non l'ho tentata prima mi ricordo che è già stata tentata ovviamente questo add lo faccio solo dopo che ho verificato che non è già stata fatta impressione adesso vado a controllare se la lettera c'è il tentativo è presente nella parola segreta allora anche le stringhe hanno un metodo contains anche se la stringa non è un set però anche l'oggetto string ha un metodo contains quindi regola generale prima di metterci a fare dei loop ciclo for vado a vedere carattere per carattere se la lettera c'è spendiamo 10 secondi a vedere i metodi offerti dagli oggetti sparmiamo vita salute tempo e soprattutto errori ok cerchiamo di pensare un pochino più a livello alto in termini di insiemi di elenchi di liste non di array di singoli elementi di singoli oggetti ok se possiamo non sempre si può allora in questo caso ho due possibilità o il tentativo tenta è contenuto dentro la stringa segreto cioè il segreto contiene il tentativo allora ok tentativo buono altrimenti altrimenti avrò un errore di nuovo allora è più facile gestire il caso dell'errore perché devo semplicemente dare uno schiaffo all'utente e dire caro mio errore più più return false non devo errori non devo modificare la maschera perché se ho sbagliato non c'è niente da modificare e non devo fare nient'altro che non incrementare nulla di errore se invece il tentativo è buono alla fine ritornerò vero e però devo aggiornare la maschera ci sarà almeno un trattino che era trattino e dovrebbe essere sostituito dalla lettera che sto tentando qua quale e quali tutti e soli i trattini che corrispondono a dei caratteri nella parola segreta che sono uguali al tentativo quindi io vado a vedere lettera per lettera la parola segreta qui ne devo fare un ciclo tutti i caratteri della parola segreta quindi segreto punto length i minore i più più mi chiedo se int se nella posizione iesima della parola segreta c'è la lettera tentata quindi come si fa a prendere un singolo carattere di una stringa charat charat di i è uguale a tenta punto charat di zero poveretto c'è solo quella posizione allora se c'è quel carattere quindi il carattere tenta punto charat di zero cioè il tentativo è nella posizione iesima della stringa segreta allora la lettera tentata è in posizione i e quindi devo sostituire un trattino con il trattino il trattino in posizione i con il tentativo quindi se i vale 6 dovrò nella parola nella mia maschera sostituire il trattino che c'è nella posizione 6 con la lettera tentata quindi maschera allora sarebbe bello se potessi scrivere questo dico sarebbe bello perché non si può no? io devo modificare l'iesimo carattere della maschera sostituendo a quello che c'era prima quello del tentativo non si può perché? perché le stringhe sono oggetti immutabili qui non c'è nessun metodo non troverete in java nessun metodo che mi permette di modificare il contenuto di una stringa una volta che questa è stata definita l'unica cosa che posso fare se voglio modificare scritto in corsivo tra virgolette una stringa è crearne una nuova che le somiglia ma è un po' diversa ok? e poi magari riassegnarla alla stessa variabile ma non è la variabile che puntava una stringa la quale è stata modificata ma la variabile punta a una stringa nuova quella vecchia la butto via che è una variante leggermente diversa da quella di partenza quindi questo non si può fare non cercate vorrei fare questo in c lo farei così in java no e come devo fare a sostituire un carattere all'interno di una stringa taglia cuci devo costruire una nuova stringa che abbia tutti i caratteri prima dell'i uguali tutti i caratteri dall'i più uno in avanti uguali e il caratteriesimo sostituito con quello allora maschera uguali tutti i caratteri dallo zero all'i meno uno cosa uso? uso un metodo substring che estrae data una stringa una substringa compresa tra due indici quindi tutti i caratteri dallo zero all'i meno uno devo chiamare il metodo substring primo paragono zero secondo paragono altro i non il meno uno e che bisogna leggere bene bene e dice la stringa che mi istituisce si estende fino al carattere all'indice end meno uno quindi il meno uno lo fa già lui non lo devo mettere io ogni secondo che spendete a leggere la documentazione sono dieci secondi risparmiati poi all'esame quando programmate eccetera bisogna diventare amici con questi metodi che vuol dire leggere cosa fanno leggere la spiegazione se è più complicato leggersi gli esempi così via quindi abituatevi a leggere le documentazioni e non le slide o cose del genere perché dicono molto di più dice tutto quindi substring da zero a i meno uno concatenata col tentativo concatenata ebbè con la coda con ciò che c'è dalla posizione i più uno in avanti punto substring questa volta mi basta la prima variante del metodo substring che è solamente l'indice di inizio se metto solo l'indice di inizio e non l'indice di fine ritorno and extend to the end of the string cioè va fino alla fine della string quanti ce ne sono per metter quindi io basta che parta dalla posizione i più uno fino in fondo fino alla fine non mi serve il secondo indice che mi dice dove fermare allora sta cosa qua sono due righe di codice però non siamo sicuri che funzionino e testiamo ok errore di sintassi non ne dà ma non vuol dire niente andiamo giù e diciamo proviamo a vedere sul nostro modello facciamo il tentativo A e andiamo a vedere che maschera che maschera mi da poi questa volta poi proviamo a fare il tentativo mettiamo uno sbagliato K e poi facciamo un altro O giusto C e poi la O quindi il programma gioca da solo si diverte un casino a cercare di indovinare la parola a cercare di indovinare la parola si diverte talmente tanto che non è partito eccolo qua allora cosa abbiamo fatto il primo nei quattro trappini poi ho cercato di indovinare la A e la maschera è stata modificata mettendo la A nel posto giusto poi ho messo la K e non mi ha modificato la maschera perché ovviamente il tentativo era sbagliato avrà incrementato il numero di errori magari non sarebbe male stampare anche il numero di errori poi ho messo la C poi ho messo la O ci ho tenuto a fare almeno tre prove qualitativamente due cioè una giusta e una sbagliata ma di quelle giuste vedete che ne ho fatte tre una in mezzo una all'inizio e l'altra alla fine perché giocando con gli indici i meno uno i più uno è facile sbagliare per cui voglio verificare che se indovino la prima lettera va bene se indovino la seconda lettera va bene lo stesso l'ultima anche che non mi dia un'eccezione del tipo indice out of range no perché cerco di prendere per dirne una quando io prendo la O ok che è l'ultima lettera qui avrò un metodo substring col parametro con i che vale tre zero uno due tre la quarta lettera i più uno vale quattro quindi sto facendo una sottostringa che parte dal carattere quattro il quale non esiste nella stringa però perché la stringa non è solo carattere con l'indice quattro sarebbe il quinto eh e non esiste allora substring cosa fa nel caso in cui gli passi un indice che è già oltre alla fine della stringa in realtà mi dovrebbe dare un'eccezione c'è scritto mi da un'eccezione se big indice è negativo oppure più grande della lunghezza di questa stringa e invece non me la da boh si vede che questa implementazione è più conservativa della oppure magari un carattere in più lo tollera in teoria dovrei gestire se avessi letto bene la documentazione questo caso qui dell'ultimo carattere lo dovrei gestire come caso parte però sembra che funzioni quindi i casi limite sono sempre quelli da verificare bene il primo l'ultimo il più piccolo il più grande e poi uno e mezzo come minimo il test va fatto così fatto questo diciamo che abbiamo la partita fatta sappiamo cosa fare quando l'utente schiaccia try sappiamo cosa fare quando l'utente schiaccia start l'unica cosa abbiamo ancora bisogno di farci dire da questo modello se l'utente ha vinto o se l'utente ha perso quindi potremmo avere due semplicissime funzioni is winner e un'altra is loser ovviamente is loser non è il contrario di is winner perché winner ha vinto loser ha perso ma tutto ciò che sta in mezzo sta ancora giocando cioè ha già iniziato la partita non ha ancora vinto ma non ha ancora esaurito tutti gli errori che poteva fare allora come faccio a sapere se è loser è facile se il numero di errori che ha fatto è maggiore degli errori permessi if errori if non serve if return errori maggiore o uguale max errori mi piace di più con le parentesi cioè se errori è maggiore o uguale al numero massimo di errori non dovrei mai diventare maggiore maggiore perché quando diventa uguale dovrei fermare la partita però siamo conservativi se ci fosse qualche bug nel nostro programma per cui lo incremento errori una volta di troppo comunque questo test continua a funzionare difendiamoci da noi stessi dai nostri errori quando possiamo quindi se errori è maggiore o uguale diciamo uguale max errori ho perso se è minore sto ancora giocando oppure ho vinto come faccio a sapere se ho vinto beh ho vinto se molto più semplice è se la maschera non contiene più trattini quindi se la maschera contiene ormai contents lo conosciamo trattino no se la maschera non contiene trattini o allora ho vinto non if return occhio al punto esclamativo è il not se non la maschera contiene trattino se la maschera non contiene più trattini allora ho vinto c'è 100 altri modi per farlo allora adesso abbiamo il modello che fa tutto ciò che ci serve per poter essere agganciato all'interfaccia grafica giusto? allora come prima cosa dobbiamo dotare l'interfaccia grafica della capacità di parlare col modello quindi definiamo piccato model qua tra le variabili private del controller aggiungiamoci un metodo setter per questa variabile facciamocelo creare da lui no non questo perché voglio solo vabbè facevo prima scriverlo a volte la pigrizia mi serve solo un set model che dovrà essere chiamato dal main e quindi devo andare ancora a modificare il main in modo da solite modifiche all'order che abbiamo visto insieme la volta scorsa quindi mi permettete le faccio velocemente poi quindi questo qua non è fxmllotra ma è l'otar quindi abbiamo questa è la vista il modello lo creiamo qua e controller lo facciamo dare dal loader e poi controller .setmodel model questo è una modifica che faremo sempre al main cos'è che ti arrabbi qua? setmodel is undefined forse devo salvarlo grazie ok e quindi a questo punto abbiamo il controller che vede il modello e allora do start che cosa farà? essenzialmente farà partire una nuova partita far iniziare una nuova partita la parola segreta da indovinare da dove la prende? la prende dalla casella di testo si chiamava txt segreto punto get text e poi chiede al modello quindi estrae qui dovrei fare i controlli che la parola non sia vuota che non sia nullo che non sia troppo lunga che sia composta solo da lettere alfabetiche ma non ce la facciamo in questi 5 minuti però possiamo fare partire nuova partita con questa parola segreta e poi poi dovremo alla gestione del tentativo sul try fare un tentativo quindi model punto tentativo dell'evento qual è? beh è il valore della tendina quindi si chiama combo box combo lettera punto value get value eccolo qua ovviamente così posso giocare ma non vedo niente per vedere qualcosa dovrò dopo ogni tentativo e magari anche all'inizio della partita mostrare la maschera e il numero di errore quindi mostrare la maschera non è altro che fare txt maschera txt si chiamava parola se non sbaglio set text il model punto get maschera e quindi dopo ogni tentativo mi fa vedere come system out print line che facciamo prima questo caso lo facciamo all'interno del campo di testo e questo stesso la posso fare anche qui poi l'altra cosa che dovrò fare qui quando inizia la partita è abilitare il bottone e la combo box perché partivano disabilitate vi ricordate quindi quando parte la nuova partita combo parola combo lettera punto set disable falso e button try set disable button try set disable falso non più non più disabilitati e nello stesso tempo posso rendere invisibile la prima riga dicevamo che si chiamava se non sbaglio box falcola box segreto punto set visible falso poi poi un'altra cosa cosa che voglio fare quando faccio un tentativo è mostrare errori set text model.get errori problema che non funziona così perché model.get errori è un numero intero e set text si aspetta una stringa quindi devo formattarlo come numero intero ad esempio col string punto format così dovrebbe essere una versione minima già giocabile proviamo a farlo partire parola non indovinare ciao clicco su start dovrebbe prendermi ciao e chiamare avvio partita sappiamo già che avvio partita con ciao funziona mi aspetto di vedere quattro trattini qua sotto e con passo lo sceglie adesso ci siamo dimenticati di riempire la tendina mannaggia e qui non possiamo ancora giocare riempire la tendina significa nel controller combo lettera allora ogni elemento di questo genere che contiene degli altri elementi in questo caso ha sempre un campo items items è una lista una lista strana observable più avanti capiremo o possiamo creare una nuova lista oppure la cosa più semplice è quello di aggiungere qualche cosa in questa lista quindi o posso fare un set items cambia la collection di items che compongono la tendina con una nuova collection mia oppure visto che lui una collection ce l'ha già inizializzata ma vuota semplicemente aggiungo elementi dentro adesso non inserisco solamente la A devo inserire tutte le lettere all'alfabeto non abbiamo tempo perché c'è gente fuori dalla porta però abbiamo messo la A e mettendo la A effettivamente schiacciando sul bottone try la A compare come parola se riprovassi mi conto un errore perché A l'avevo già inserita ok? ci manca tanto così da finire l'esercizio ma trovate sul sito che ho mostrato prima già l'esercizio completato finito quindi magari date l'inocchiato provate a finirlo voi e poi eventualmente date l'inocchiato dobbiamo lasciare l'aula grazie 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 grazie